E' una calda giornata estiva, il vento tira cercando di rendere più sopportabile, il calore del sole. Tu sei disteso sul divano con la finestra alle tue spalle a leggere l'ultimo libro del tuo autore preferito. Percepisci i soffi del vento che ti arrivano alle spalle, sembrano quasi dei freschi sospiri che accarezzano i tuoi capelli e le tue guance. Il tempo scorre mentre tu leggi, pagina dopo pagina, quel libro. Il vento smette di tirare e con la coda dell'occhio ti sembra di vedere un'ombra spostarsi alle tue spalle. Ripeti a te stesso che è solo suggestione, anche perché sei solo in casa, quindi te ne dimentichi e torni alla tua lettura. Dopo aver letto un'altra ventina di pagine, pensi sia il momento di prendersi una pausa, anche perché il vento non soffia da un pezzo e il caldo inizia a farsi sentire. Ti alzi dal divano, vai in cucina, passando davanti alla finestra. In quel momento realizzi, la finestra è chiusa.